Ciao! Oggi parliamo insieme di una nuova collaborazione che ho avuto la possibilità di fare. È uno shop online che adesso che arriva a Natale secondo me è azzeccatissimo per creare regali ad hoc e unici. Parliamo di adesivi e decalcomanie per accessori o la Play, l'Xbox e comunque tutte le console di gioco. Vi faccio vedere il mio joystick e non è l'unica cosa che ho decorato ma c'è anche l'intera Playstation, vi la faccio vedere dopo. Parliamo di un negozio, lui si chiama Vitali, vi lascio qua il link del suo negozio che rileggo è www.zibet.com Dopo vi lascio tutto nell'info box, ci guardiamo insieme il sito per guardarlo. Secondo me fa delle cose veramente carine, vi do un assaggio del sito. Eccoci qua, come vi dicevo il sito è semplicissimo, qua continuano a leggersi ed è www.zibet.com videogamesdesign.decalc e troverete un sacco di decorazioni. Ah c'è quella dei Pokémon, non ce l'avevo l'altra volta. Un sacco di decorazioni per l'Xbox One, la PS4, la PS3, eventualmente la Wii e abbiamo bello anche questo di Kingdom Hearts. Abbiamo un sacco di decorazioni e vi ribadisco, secondo me per Natale qua riusciamo a ricavarci dei regali non da poco, molto molto bellini. Ci sono anche delle spettacolari decalcomanie per i muri, che però parliamo di pareti intere, cioè guardate la roba allucinante, tipo queste qua, sono adesive, si attaccano direttamente su un muro, hanno una grafica spettacolare. Continuo a far scorrere così vi fate un'idea dei prodotti. Ah quello di Batman, guarda che bello, peccato no, come avete potuto notare sia dal joystick e sia dalla Play che vi farò vedere, questo è il mio, c'è sia fronte e retro, ma io non uso, uso la Play appoggiata a terra e quindi la seconda decalcomanie la tengo perché quando si rovinerà la prima non farò altro che cambiarla. Guardate che spettacolo di grafiche, ce n'è per tutti i gusti. La cosa molto 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 interessante, diciamo che ogni decalcomanie vogliamo decorare la nostra Play 4 con 20 dollari ce la caviamo e soprattutto ci sono le spese di spedizione come potete notare da qua assolutamente gratuite, quindi ribadisco il concetto. Io se fossi in voi mi approfitterei. Niente, vi lascio con il video dove vi mostro la mia Play completamente decorata, spero che il video vi sia piaciuto. Fatevi un giro sul sito perché ribadisco, sarò monotona ma mi piace specificare la cosa, lo reputo veramente un ottimo negozietto, potreste fare dei regali veramente... veramente... Porca vacca, non mi vengono le parole. Niente, se volete fare bella figura direi che questo è il sito adatto per fare degli ottimi regali di Natale. Ce l'ho fatta. E con questo... Niente. Con questo vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao! Ciao!